Morire arsi vivi nel 2018 in uno dei paesi tra gli otto più avanzati significa che allo sviluppo economico non è corrisposto lo sviluppo dei diritti umani. Le condizioni in cui hanno trovato la morte il giovane Surahua Jaita ieri e Becky Moses a gennaio, le immagini delle persone messe ieri in mezzo alla strada a Crotone, a prescindere dalla loro condizione di donna incinta, vittime di tratta, bambini, sono immagini che segnano un arretramento storico rispetto all'affermazione dei diritti universali. di ogni essere umano, senza distinzione di razza, di colore, di pelle, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Sono situazioni frutto dell'incapacità di chi ha governato ieri e di chi governa oggi, di dare risposte alle condizioni di bisogno delle persone, di garantire, anziché indebolire o cancellare, quella rete di protezione sancita anche dalla Carta Costituzionale. L'Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria ritiene non più accettabile l'uso strumentale della condizione dei più deboli, siano essi immigrati, rom, gay o qualsiasi altro essere umano che non sia in grado di provvedere a se stesso o far volere i propri diritti. Non più accettabile la semplificazione delle condizioni di povertà e bisogno, quasi fosse una colpa di chi ne è portatore, ad uso più o meno consenso elettorale. Non più accettabile che di fronte all'incapacità di mettere in campo strategie per una più equa ripartizione della ricchezza e all'ampliamento delle fasce di povertà, si continui a rendere sempre più residuale il welfare e ad alimentare la paura dell'altro. Per tali motivi l'Ordine degli Assistenti Sociali della Calabria chiede a tutte le istituzioni della Regione di porre al primo posto della propria agenda di lavoro i diritti umani e i servizi di protezione dei più deboli, e si fa promotore di lanciare lo stesso messaggio in tutte le altre regioni per il tramite dell'Ordine Nazionale e degli Ordini Locali.